della festa della Madonna del Conforto che è l'apportamento più intenso della vita liturgica della nostra diocesi. Questi dieci giorni, nove giorni di novena più il giorno della festa sono una sorta di esercizi spirituali offerti a tutto il laicato della nostra diocesi con pellegrinaggi che vengono da ogni dove stasera comincia la Valtiberina a venire su intorno ai nostri amici frati della Verna che vengono ad animare i Vespri e la Messa. Credo che il legame in tutti i giorni della novena e il legame tra la preghiera e la carità è costante. Stasera ci sarà una cosa molto bella dopo cena perché i magistrati di tutte le misericordie del nostro territorio salvano processionalmente l'induomo dalla Chiesa della Misericordia Venganzu per pregare insieme con me alle nove stasera. Sì, non vi meravigli questo fatto ma la cattedrale in questi giorni è davvero usata in modo intenso perché si parte ogni giorno alle sette del mattino con le lodi e la messa e si arriva tutte le sere fino a mezzanotte quindi è una frequentazione intensa. Sono appena reduce dalla presenza di bambini un migliaio di bambini in Duomo stamattina. Svegli la generazione nuova e ti chiedono tutto voglian sapere tutto e lieti di essere in un posto insolito per loro ma che è la casa comune di tutta la gente della nostra dioce. Quindi preghiera sì ma carità anche. Attenzione ai poveri insieme con la nostra riconciliazione con Dio perché funziona come una specie di equazione che se tu ti rimetti d'accordo con Dio non lascerai che gli altri tribulino più di tanto. Siamo un papà, un pacchettillo, che siamo pieni di egoismo, di riusso nel privato. L'idea che tradizionalmente si aspettano in Duomo in questa decina di giorni tra i 70 e gli 80 mila persone che vengono su è evidente che è un gesto comunitario forte e uscire dall'ossessione del computer dove ti confini da solo a vedere che cosa dicono ratti. Credo che è un gesto che si fa anche con i piedi e bisogna fare in modo che la gente capisca che è ben accorta, tutta quanta ben accorta. In questi dieci giorni ci sono, mi piace puntare subito sulla fine, in cui quasi per intero l'episcopato toscano viene in Arezzo per pregare con noi. Quindi un gesto di comunione forte, non una storia di campanilismo. Quest'anno abbiamo l'arcidesco metropolita di Firenze, il cardinale Giuseppe Vettori che viene a presiedere e ci sono insieme, ci saremo veramente un significativo gruppo di vescovi nostri. Un'ena apparenza perché se volevo riempire gli stalli del coro con gente del Vaticano era un momento ma a me interessa sia un gesto significativo di Toscana che si esca dai nostri angusti confini per ragionare insieme di che cosa fare per il futuro, come impegnarsi, come essere presenti. I cattolici non possono che partecipare, avere a cuore le cose che riguardano il bene comune. E mille attivi.